Ciao Babi, è scritto sul cofano della 4x4, lei è Barbara Cogorno, l'adolescente scomparsa il 16 marzo 2012. Il mezzo è una Dacia Duster, allestita per la protezione civile e donata alla Croce Verde Chiavarese dei genitori della ragazza, Laura e Roberto. L'ho utilizzato innanzitutto come monitoraggio in case di allerta meteo nell'ambito del comune di Chiavri, Lavagna e Leivi, eventualmente con missioni fuori regione come purtroppo ogni tanto può succedere e potrebbe essere utilizzato per accompagnare gente all'ospedale, fare esami, visite, terapie e cose del genere. La cerimonia di inaugurazione si è svolta davanti alla sede dei volontari in via Piacenza, il luogo più vicino a Barbara, ha ricordato il papà nel suo commosso discorso. La cerimonia di amici è una cosa che aspettavamo da tanto tempo, ricordare una ragazza che ha fatto tante cose, aveva cominciato a fare alcune cose per la protezione civile e sulla sua orma. Ci andiamo dietro. Presenti anche ex compagni di scuola ed ex insegnanti, come Maria Stella Mignone, docente di matematica e fisica, che ha ricordato le capacità e la bontà di Barbara Cogorno, conosciuta tra i banchi di scuola. Una ragazza speciale, veramente dedicata agli altri, sempre puntuale nei suoi impegni. Si vede che la vita doveva andare così, forse per la troppa sensibilità di una ragazza diversa da tutti. E quindi io dico ciao Barbara, ti abbiamo tutti nel cuore. La benedizione del mezzo è stata impartita da Don Marco della parrocchia di Rupinaro, realtà dove il papà di Barbara è volontario per il gruppo Pino Solari Omide Ruinà. Viva Chiavari, viva la Croce Verde, ciao Bobbi!